Il mio povero orto! Le mie carote, rovinate! Ah, chi è stato devastare la mia insalata? Grazie, detettivo Ippopotamo, per aver risposto al nostro appello così velocemente! Bene, ma ditemi cosa è successo di così grave! Stamattina, come ogni giorno, sono andato nel mio orto e l'ho trovato devastato! C'erano buche dappertutto! Stessa cosa anche io! Qualcuno ha scavato buche in tutto il mio orto distruggendolo! Anche il mio orto era ridotto a un colabrodo! C'è chiaramente la stessa mente criminale dietro tutto questo! Ok, calvatevi e ditevi se avete notato qualcosa! Io, per un attimo, ho visto un'enorme mano unghiata comparire da una buca! Per me è un terribile mostro del sottosuolo! Io ho notato un'orrenda coda spuntare da uno dei fossi! Per me era un terrificante serpente sotterraneo! Io sono riuscito a scorgere per un secondo un orripilante muso appuntito! Se sono certo che si trattasse di un drago delle caverne! Ok, tranquilli, fatemi pensare! Mmm, ma non unghiata, muso appuntito, coda! Capito, signori miei, siete giunti a conclusioni troppo affrettate! Ma allora, niente mostri? E chi è che ha fatto tutte quelle buche? Volete il colpevole? Ora ve lo consegnerò! Una talpa? Scusatemi tanto, ho perso gli occhiali, non vedo nulla e non riesco più a trovare la via di casa! Nessun problema, ecco un nuovo paio di occhiali! Oh, grazie! Adesso sì che ci vedo! Addio, torno a casa! E anche stavolta un nuovo mistero è stato risolto! Grazie a tutti! Ciao!